Negli ultimi 90 giorni, la vita di queste tre persone è stata completamente rivoluzionata dall'investimento fatto in Bitcoin. Sui loro conti correnti sono finiti oltre 13.837,45 euro in sole 24 ore dopo essersi iscritti al mio beta test online. Indovina, il fatto che puoi vedere questa pagina significa che anche tu puoi utilizzare Bitcoin Code. Perché ne sto aprendo un altro identico proprio per te adesso? Sono stata selezionata per il beta test di Stefano e grazie a Dio mi sono iscritta a The Bitcoin Code. Uso il suo programma già da 37 giorni e ho già guadagnato 400.000 euro. Ho finito di pagare il mutuo e anche l'università di mio figlio. Poi mi sono licenziata dal lavoro che odiavo e adesso mi godo il successo con il Bitcoin. Stefano mi ha fatto cambiare idea. Prima avevo un sacco di azioni, oro, jigs e non so neanche io cos'altro. Credetemi, non c'è altro investimento in giro capace di rendere tanto quanto il Bitcoin. Col sistema messo a punto da Stefano ho guadagnato 784.832,77 euro. In poco più di due mesi. Per fare tutto questo mi è bastato investire 250 euro, spiccioli in confronto a queste cifre. Fra 30 giorni diventerò milionario per la prima volta in vita mia. Anch'io avvo sento parlato di queste persone che hanno fatto soldi con i Bitcoin. Però comprarli mi sembrava una cosa troppo complicata e lunga. Poi ho visto il video di Stefano e mi sono entusiasmata l'idea di poter guadagnare con i Bitcoin. Come mi è stato promesso ho guadagnato 13.034,48 euro in 24 ore. Il tutto con un investimento di soli 250 euro. Adesso posso dire con orgoglio che un giorno diventerò milionaria. Voglio farti una domanda. Ti sei mai chiesto quanto saresti ricco adesso se fossi stato tra i primi a investire su Uber, Facebook, Apple, Airbnb o Google? Non chiedertelo più e non ti rammaricare più per essere arrivato tardi alla festa. Perché i Bitcoin sono la nuova occasione che ti può far diventare ricco. Un'occasione circondata da tante polemiche. Le stesse che hanno accompagnato la nascita di fenomeni come Uber, Google, Amazon ed Airbnb. Ma i pochi che hanno ignorato quelle polemiche adesso se la stanno spassando grazie al loro conto in banca. Adesso tocca a te rimettere indietro le lancette dell'orologio ed essere tra i primi investitori milionari in Bitcoin. Ci sono già migliaia di persone nel mondo che in silenzio stanno guadagnando milioni con i Bitcoin. E adesso si sta preparando una nuova ondata di milionari che hanno scelto di investire in Bitcoin. Perciò ascolta. Fra tre minuti ti svelerò come guadagnare 550 euro nella prossima ora e in ogni ora che seguirà. Fai i conti. Sono 13.200 euro sul tuo conto in banca in appena 24 ore. E puoi cominciare oggi, gratuitamente. Esatto, gratuitamente. Quindi lascia perdere carte di credito, bancomat e conto Paypal. Io non vendo niente. Per caso vedi il tasto aggiungi al carrello sulla pagina? Non credo proprio. Ma prima di darti la notizia bomba su come fare un investimento che ti cambierà la vita, mi corre l'obbligo di essere estremamente chiaro e trasparente con te. Saremo entrambi a guadagnarci. Ma prima di spiegarti di cosa si tratta, permettimi di presentarmi. Mi chiamo Stefano Savarese. Sono uno sviluppatore di software diventato investitore. E adesso mi occupo di far diventare gli altri milionari. Forse mi hai visto sull'Wall Street Journal, sulla CNN e su Forbes. Sono stato definito l'uomo da 100 milioni di dollari. Tutto è cominciato così. Solo tre anni fa non sapevo niente di investimenti. Ero solo un normale sviluppatore di software di una grossa impresa quotata in borsa. Un bel giorno mi fu chiesto di lavorare su un programma del tutto nuovo. Un programma che permettesse ai clienti facoltosi dell'azienda di fare trading con bitcoin senza che fosse necessario acquistarli. Mi fu detto che si trattava di una richiesta privata proveniente dai piani alti, che non andava divulgata in giro. Così mi misi al lavoro su questo progetto segreto e non ne feci parola con nessuno. Ci lavorai per un anno intero, giorno e notte. A distanza di due giorni da quando fu messo online, accadde qualcosa di molto strano. Ricevetti una telefonata da un numero privato. Era il mio responsabile. Mi stava chiamando da un altro paese e mi disse di non far mai parola con nessuno di questo software. Poi ho scoperto che non lo aveva mai distribuito ai clienti dell'azienda. Mi aveva spinto, con l'inganno, a realizzare quello che era diventato il suo bancomat personale. Ricapitolando, ero rimasto solo con questo potentissimo programma di cui nessuno conosceva l'esistenza. Cosa feci? Quello che avrebbero fatto tutti. Lo provai io stesso. Cominciai con un investimento di soli 250 euro. Dopo un'ora avevo guadagnato 550 euro. Dopo un'altra ora altri 550 euro. E così via. I soldi mi arrivavano sul conto ora dopo ora. Dopo sole 24 ore avevo guadagnato 13.000 euro. E dopo 90 giorni ero diventato milionario per la prima volta in vita mia. Inizialmente non pensavo certo di poter diventare milionario. Ma se sono riuscito a farlo io, allora tutti possono ritrovarsi 13.000 euro sul conto nel giro di 24 ore. Ecco perché voglio condividere con 25 persone il software che ho creato e dare loro la stessa possibilità che ho avuto io. Sarebbe un sogno se riuscissi a creare 25 nuovi milionari. Persone normali, lavoratrici, come te. Ma so bene che ti riuscirà difficile credere che si possano guadagnare 13.000 euro in 24 ore. Ecco perché ti voglio dare una dimostrazione dal vivo. Per prima cosa vado ad aprire un conto nuovo col programma. Si tratta dello stesso software che potrai ricevere alla fine del video. Faccio un deposito di 250 euro e ti dimostro che anche con una piccola somma iniziale si può arrivare a guadagnare 13.000 euro in 24 ore. Clicchiamo su Autotrade in modo che il programma inizi a fare trading con i bitcoin automaticamente. Lascio dunque lavorare il software in modalità automatica e verrò a controllare il saldo più tardi. Nell'attesa ti ricordo che nel giro di 48 ore offrirò ad altre 25 persone l'opportunità di utilizzare il mio programma. Garantisco che ognuna di queste persone si ritroverà con oltre 13.000 euro sul conto entro 24 ore. Il tutto con pochi clic del mouse. Come detto, il programma lavora totalmente in automatico. Nel caso te lo stessi domandando, si tratta di un sistema legale al 100%, totalmente corretto. Io non sono qui per vendere qualcosa. Quello che cerco sono clienti con cui avere un rapporto duraturo nel tempo. Come potresti essere tu? Ho iscritti da tutto il mondo che stanno facendo soldi a palate in questo momento. Tutto quello che hanno dovuto fare è attivare il conto che tra poco ti mostrerò. Ed eccoci qui. Sono passati 3 minuti. Come vedi, dopo solo pochi minuti, il saldo è già di 360 euro. Si tratta di un guadagno di 110,43 euro in meno di 3 minuti. Ricontrolliamo tra 24 ore e vediamo se c'è davvero quel profitto che ti può cambiare la vita per sempre. Ed eccoci di nuovo. In 24 ore il saldo è schizzato a una cifra pazzesca. 14.830,44 euro. Da non credere, vero? Clicchiamo qui e diamo un'occhiata alla cronologia degli scambi. Come vedi, gli scambi sono quasi tutti vincenti. Ci sono solo tre perdite. Ecco perché il software viene definito come il più affidabile al mondo. La sua precisione raggiunge una percentuale stratosferica del 99,4%. In altre parole, è praticamente impossibile rimetterci. Per cui passo a spiegarti cosa bisogna fare adesso per cominciare. Semplicissimo. Basta riempire il modulo su questa pagina. Al resto, pensiamo noi. Ci occuperemo di tutto quanto da qui. Allora, sei pronto a guadagnare 13.000 euro al giorno o ogni giorno? 13.000 euro sono un sacco di soldi. Pochi sono abituati a gestire una cifra del genere. Se pensi di essere tra quelli in grado di farlo, allora riempi pure il modulo su questa pagina. E pensa solo per un attimo quando, svegliandoti al mattino, troverai 13.000 euro in più sul conto. Ti manca poco per cominciare a vivere nel lusso come hai sempre sognato, per andare in vacanza su una bella isola tropicale, per comprare qualche aggeggio elettronico di ultima generazione, o vestiti eleganti e alla moda, per invitare gli amici a venire con te in giro per il mondo, perfino comprargli una casa. Tutto quello che hai sempre desiderato, questa volta potrebbe essere davvero a portata di mano. Basta inserire i tuoi dati nel modulo su questa pagina e avrai accesso al mio programma che ti cambierà la vita. Ti indicheremo noi chiaramente cosa fare e i tasti da cliccare per cominciare a guadagnare. Inserisci i tuoi dati su questa pagina. Non aspettare! O peggio ancora, non pensarci su! Non hai assolutamente niente da perdere! Inserisci le informazioni richieste e guarda quanti soldi cominceranno ad affluire sul tuo conto. Ci vediamo dentro!